qualche giorno ripuliamo anche questa che andava in là no ma qualche giorno ripuliamo questa che andava alla diritta prima o dopo lo facciamo grazie vai gargamella no no ti devo riprendere qua dai vai vai spanti che se va avanti lui siamo rovinati ricordati il tronco eh vai dai andiamo che arrivano porca loca ma porco caneo andiamo io guarda dove sono io andiamo 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 Grazie a tutti. Dove sei fermato? Due volte dove c'era il tornante e dove c'era il tornante. Ma che l'hanno sbarrata? Tu sei passato prima di me. Io sono passato di là. Di qua l'hanno sbarrata. Eh, c'era la caduta. C'erano i legni proprio per così. Ma se ne sei passato spanti? E lui era dietro di me, dopo che l'ho messo a posto io. Ma per fortuna l'ho messo a posto lui. Non vedi come è rosso? Non vedi come è rosso? Ma lui era già qua e mezz'ora che è qua a spanti. No, non lo so. Diggi, sono arrivato. Sì, basta, va bene così. Un legno pelato di Sambuco tra la ruota e il parafago. Una delle poche certezze della vita è che si spegne la moto nel posto. Un legno di Sambuca, non di Sambuco. Dove gli si è spenta? Al tornante. Dove gli si è spenta? Al tornante ancora. Di che così sono rimasto due volte. E' riterta. Eh, bravo. Ma vedi la moto con la giannazio elettrico. Perché adesso con tutti i soldi che fai con YouTube compriamo che è arrivato con la giannazio. Sto mese con tutti gli 8 milioni 10 mila, 27 euro. Ma vaffanculo. E quello è andato a Las Vegas intanto. No, vediamo.